E' un pareggio che ha quasi il sapore di una vittoria quello strappato dalla noncerina sul campo del Casarano. Molossi aggressivi e combattivi, che soprattutto nel secondo tempo sfiorano più volte il colpo grosso, ma devono accontentarsi dell'1 a 1 maturato nel primo tempo grazie alle reti di Burzio e Mancino. Il tecnico dei locali Costantino si affida al collaudato 4-3-3 con Navas, Saraniti e Burzio a reggere il peso del reparto offensivo. Favasuli, che sostituisce in panchina il latitante Sannino, ritrova Basanisi e Garofalo e rilancia dal primo minuto Balde che forma il tridente d'attacco con Scaringella e Mincica. La prima occasione porta la firma di Bomber Saraniti, che dopo 6 giri di lancette fallisce il vantaggio con un colpo di testa che si perde di un soffio a lato. Al 14esimo i padroni di casa passano in vantaggio. Magri buca un banale intervento difensivo, spalancando una prateria a Burzio, che si invola verso Stagos e lo supera con un tocco vellutato che si infila in rete nonostante la deviazione dell'estremo difensore molosso. Segnale di Nocirina al 23esimo, con Mancino che cerca fortuna con un tiro dai 20 metri che termina alto. Dopo due minuti i locali sfiorano il raddoppio ancora con Burzio, che approfitta dell'ennesimo errore difensivo dei Molossi, raccoglie palla e tenta di battere Stagos con una conclusione che si stampa in pieno sul palo. Al minuto numero 36 gli ospiti raddrizzano le sorti dell'incontro con un euro-goal di Mancino, che si smarca sulla tre quarti e lascia partire un bolide che si infila alla sinistra di Baglietti. Al quarantaduesimo i Molossi hanno addirittura l'occasione per portarsi avanti di una rete. Garofalo mette al centro dalla sinistra Perchietti, che impatta a botta sicura, ma non inquadra lo specchio da ottima posizione. La prima frazione non riserva ulteriori emozioni e si conclude dopo quattro minuti di recupero. Il secondo tempo inizia senza variazione di uomini e schemi. L'approccio degli ospiti è ottimo e dopo 120 secondi Scaringella sul destro una buona occasione, ma la sua mira non è precisa. Al ventiduesimo Rossoneri ancora pericolosi con Chietti, che salta in bello stile un po' di avversari e batte a rete. Bravo Baglietti a distendersi sulla sua destra e respingere. Al minuto numero 40 Talamos, marcato da un perfetto cross dalla sinistra di Garofalo, spara a lato con una battuta volante. È l'ultima emozione di un match che permette Molossi di mettersi alle spalle il clamoroso tonfo di mercoledì scorso con Lavello e di attendere con fiducia gli sviluppi della delicata situazione che si è creata tra la società e il tecnico Giuseppe Sannino.